Impianto fuori servizio per manutenzione straordinaria, tempi di ripristino stimati, ottobre 2019. Ci scusiamo per il disagio. Con questo cartello Rete Ferrovie Italiane avvisa gli utenti che l'ascensore presente nello scalo agropolese è fuori uso. Gravi disagi per anziani, donne in stato interessante e soprattutto persone disabili che non potendo soffrire del servizio sono vittime silenziose di tale situazione ogni giorno. Il grido di aiuto richiesto questa mattina alla nostra redazione è da parte di un disabile pendolare che indignato per il cartello esposto sull'ascensore ha deciso di scriverci. Abbiamo segnalato al numero verde della ditta di manutenzione che gli ascensori delle stazioni di Agropoli e Valloscalo di recente installazione sono guaste ma nulla è stato fatto per risolvere la problematica. Per alcune persone, continua il cittadino disabile, l'ascensore è vita, gioia, aria, libertà, movimento, uscire con amici, con la famiglia senza far pesare la disabilità a nessuno. Il fastidio più grande è per noi disabili il cartello che Rete Ferrovie Italiane ha affisso all'esterno dell'ascensore. Forse l'azienda non sa che anche noi siamo esseri viventi oppure pensa che lo diventeremo ad ottobre quando ripristinerà il servizio. Siamo stanchi di questa situazione, ci si riempie la bocca con il termine abbattimento delle barriere architettoniche e poi i primi a dover lottare contro queste benedette barriere siamo sempre noi disabili. Chiediamo che tale servizio sia immediatamente ripristinato, siamo stanchi e soprattutto offesi dal trattamento ricevuto.